Si terrà domani ad Atessa un importante appuntamento, le officine culturali, di cosa si tratta? Da dieci anni trasformiamo l'antico monastero Santa Maria degli Angeli di Atessa in una fabbrica di cultura in cui trovano spazio tante forme artistiche. Avremo un concerto al tramonto del maestro Alexander Romanowski, location d'eccezione perché si terrà in un palcoscenico di bellezza, un campo di grano sopra il convento, poi l'inaugurazione di una galleria en plein air di arte contemporanea, abbiamo una collaborazione con Palazzo Monti di Brescia e l'Associazione Culturale Arte e Arte di Como, poi Dulcis in Fundo, la degustazione della bomba di Nicoromito, chef abruzzese, tre stelle Michelin che ci delizierà con la sua chicca di alta pasticceria e poi alle 20.30 una performance con la creazione di un'opera d'arte dal vivo fatta dall'artista Andrea Bocca e curata da Edoardo Monti, fondatore di Palazzo Monti di Brescia. Noi siamo un gruppo di giovani di Atessa e dieci anni fa ci incontravamo nel monastero di Santa Maria degli Angeli di Atessa con un missionario d'entes che era un po' etamistico e ci diceva che dovevamo sognare in grande, dovevamo seminare bellezza. Ecco, la nostra associazione è nata per seminare bellezza ma anche per costruire una coscienza culturale nel nostro territorio che ha una vocazione prettamente industriale e poi per avvicinare le persone a qualcosa di altro che sia appunto la bellezza. Diciamo che è una manifestazione culturale al 360 gradi a tutto tondo e noi siamo veramente felici di ospitarla nella città di Atessa e nel bellissimo convento di Santa Maria degli Angeli, questo luogo di cultura per eccellenza del nostro territorio. Nell'associazione conventiamo da dieci anni che propone le officine culturali sempre a livelli più alti e sempre poi con partner molto più importanti e noi siamo fieri di sostenerli all'interno dei nostri eventi culturali estivi.